Oggi facciamo la carbonara con il guanciale di maiale a coscia lunga, un guanciale particolare cresciuto in casa, a Casareccio, perché il guanciale è stato preparato e stagionato con il metodo albico dalla nostra signora Tonella. Il guanciale l'abbiamo già affettato, ovviamente al coltello, ma passiamo alla fase e poi facciamo la base di un guanciale di un guanciale di un guanciale di un guanciale di un guanciale. Tonella Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.